...una monetina? Sì, puliscila bene e rimettitela nella borsa, brutta stracciona! Ecco fatto, chi è il mio bel bambino pulito? Oh, guarda che ricrescita! Ora mi attacco ai capelli, a me piace attaccarmi alle cose! Ok, ok, Stewie, lascia, lascia i capelli, lascia i capelli di mamma! Quando sarò grande non ti telefonerò mai, sarò impegnato con il lavoro e la mia famiglia, tu non sarai niente! Non credo di piacere alla signora Lockhart, purtroppo! La signora Lockhart, la tua insegnante... Momento, 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 momento... Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman! Peter, la vecchia scuola sta andando a fuoco, dobbiamo andare! Potere dei super giomelli in azione! Trasformazione in palco! Sbrigati, Peter! Sì, ti raggiungo subito! Trasformazione in un utile oggetto per Jane! E ora me ne sto a buono buono in attesa! Perché ci fermiamo? Oh, andiamo! Per l'amor dal cielo, Brian! E su uno scogliato! E vai! Oddio! Oh, non potrà più farti del male! Ehi là, bel bambino! Splendida giornata per andare in giro, non trovi? Sta lontano dalle chiappe di mio fratello! Ehi, vuoi vedere che cosa so fare? Allora, guarda qua! Una birra, un bicchiere... Adesso, guarda qua! Ecco, ora sto qui un minutino! Oh, per la miseria! Si versa da sola! Oh, wow! Non avevo mai visto nessuno fare una cosa del genere! Ti va di uscire? È grosso, non è vero? Peter, grosso, grosso! Sì, è grosso! Oh, cacchio, sì! Ah, sì! Ah, sì! Ah, usi quell'affare, sì, bene! Ti amo così tanto! Allora, Glenn, questo esercizio dovrebbe servire a insegnarti l'autocontrollo! Il nuovo catalogo di biancheria intima di Victoria's Secret! Oh, mamma! Oh, mamma! Micidi morti! Micidi morti! Suore vecchie! Suore molto, molto vecchie! René Ziegweger! Ah, sì, funziona! Sì! Vai! Molto bene, eh! Bravo! Beh, tutti sbagliamo! Oh, no, no! Perché c'è scritto, non è un'uscita! Dovrebbe esserci scritto, Gorilla, dietro la porta! Ti voglio prendere in giro! La gente non si ricorderà mai di me! Non come i miei proprio zigi e me li siamesi che si combatterono durante la guerra civile! Sono per la secessione! Secessione è un cavolo! Non è stata una bella mossa! Già, avrei dovuto rifletterci un attimo! Ehi, sei ancora sveglia, Lois, tesoro? Papone! Sì, 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 non parlare ora! Shh, 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 shh! Non parlare, Lois, non parlare! Rilassati, lascia fare tutto a me! Ecco, ora senti il mio fiato caldo sul tuo collo! Le mie mani sui tuoi grossi e morbidi meloni! Per arrivare giù, giù, fino al tuo grande... Per la miseria, sei Chris! Lasciatelo accendo io, baby! Wow! Già, ho le dita magiche! Gesù Cristo! Che c'è? Va a prendere la macchina, dobbiamo filare! Allora, come andiamo, Chris? Hai fatto tutti i compiti? Hai studiato tutte le materie? Sì, papone! Bene, volevo solo controllare! Buonanotte, figliolo! Sei ancora sveglia, tesoro? Cosa diamo? Guardi lassù! La ragazza sta per avere un infarto! E' stato incredibile! Le ha salvato la vita! Ma lei conosce la R.C.P.? Che diavolo è la R.C.P.? La ragazza sta per avere un infarto!